Sascha Bielanovic è qui a Coveciano ad allenarsi con i giocatori in cerca di contratto. Qual è il tuo futuro dopo una lunga carriera qui in Italia? Penso che purtroppo è quello che ogni calciatore non vuole, però mi sa che è arrivato anche il momento di smettere col calcio. Ho 36 anni anche se vorrei giocare ancora, però penso che ultimamente tanti infortuni mi hanno un po' fermato, quindi andare avanti in condizioni come l'anno scorso non mi conviene più. Penso che è un ragionamento molto sofferto, però penso che a questo punto sono qua per prendere il patentino, per rimanere nel calcio. E di interprendere un'altra carriera. I ricordi più belli qui in Italia quali sono? Guardi, i ricordi ce ne sono stati tanti. Io ho cambiato veramente tante squadre, anche troppe forse. Però da tutte le parti ho legato bene sia con l'ambiente che con la società, quindi veramente per fortuna ho avuto pochissime, anzi quasi nessuna esperienza negativa. Penso che quello che mi riempie l'orgoglio è che ho lasciato sempre un segno sia dal punto di vista calcistico, ma anche umano, che è quello che conta forse ancora di più. Con il corso della tua carriera sei stato legato tra gli altri allenatori a Mandorlini. Mandorlini, secondo te, è una delle grandi garanzie del Verona? Sì, ma mister penso che quello che ha fatto e sta facendo a Verona è una cosa che difficilmente riuscirà a qualcun altro. Perché ha fatto quello che ha portato una squadra dalla C, dove erano quasi disperati, a vincere il campionato. In tre anni l'ha portato in A. Si stanno confermando comunque con un budget non esagerato in Serie A, quindi è tutto merito suo, però è merito anche dei giocatori che gli si mettono a disposizione. Da attaccante, Pazzini-Toni, che coppia sarà, visto che hanno già giocato insieme tra l'altro? Sì, ma io penso che comunque l'idea dell'Ellas come dirigenza era mettere Pazzini piano piano a fare, non dico vice-Toni, ma visto che Tony comunque c'è un'età che nonostante l'età sta facendo bene, però anche lui forse fra qualche anno smetterà e Pazzini sarà più che l'altro un futuro dell'Ellas, perché è un giocatore che garantisce il gol, può sostituire Tony tranquillamente. Adesso toccherà al mister e sarà per lui delle scelte difficili, metterli insieme più che l'altro perché lui ha un modo di giocare particolare, non ha giocato spesso con due attaccanti, però penso che è bravura di una... 4-3-3 possono coesistere? Facendo i sacrifici sì, ognuno di loro dovrebbe fare dei sacrifici senza togliere quello delle caratteristiche proprie, non sarà facile, però toccherà al mister, lui è bravo perché insomma è bravura di un autore anche cercare di sfruttare al meglio delle caratteristiche dei propri giocatori, quindi capirà lui col tempo qual è il modo migliore per l'Ellas.